e oggi è martedì e come ogni martedì ritorna a radiobase la rubrica diritto ai diritti curata dall'avvocato alfonso mauro grillo qui accanto a me buongiorno avvocato buongiorno a tutti quanti voi ben ritrovati e dunque ritorniamo a parlare di un argomento di stretta attualità parliamo del governo centrale con questa crisi in atto e con la formazione a breve di questo nuovo governo sì parliamo di questo momento di attualità l'altra volta diciamo che non davamo l'argomento della giornata perché aspettavamo degli sviluppi infatti sviluppi ci sono stati e adesso si è in piena bagarre perché c'è un presidente del consiglio nominato e spiegheremo che cos'è c'è un presidente del consiglio di missionario quindi diciamo che almeno da un punto di vista pratico ci sono due presidenti del consiglio in realtà da un punto di vista formale c'è ancora un presidente del consiglio che è quello la di missionario e lo spiegheremo insomma tra pochissimo qual è il motivo di questa cosa infatti entriamo subito subito nell'argomento e partiamo dall'attuale situazione politico amministrativa che c'è al governo centrale certo allora come abbiamo detto un minuto fa abbiamo questo presidente del consiglio di missionario che conte che è ancora il presidente del consiglio anche se di missionari e quindi rimane in carica fino alla nomina del nuovo presidente del consiglio e del nuovo governo per gli affari correnti e abbiamo poi un presidente del consiglio cosiddetto presidente del consiglio incaricato questo presidente del consiglio incaricato diciamo che è una figura ibrida data dalla consuetudine costituzionale della nostra Costituzione in quanto non è propriamente prevista questa figura del Presidente incaricato però il ruolo che svolge, perché è chiaro che ci deve essere sempre un Presidente incaricato per essere precisi, però per la nostra Costituzione e per la prassi costituzionale cioè per una regola che non è scritta ma è data dalle abitudini che nel tempo si sono consolidate nella formazione del Governo, vi è una procedura che si segue per la formazione di un nuovo Governo ogni volta che c'è da formare un Governo. Qual è questa procedura? è molto semplice, il Presidente della Repubblica quando vi è una crisi di Governo o dopo le elezioni fa un giro di consultazioni infatti se ne sta parlando in questi giorni, consultazioni, vari gruppi politici che appunto sono sono presenti, tre, quattro, andiamo tutti assieme, tu vieni, non vengo, voglio venire pure io, mi metto avanti e mi metto dietro, insomma un po' è una cosa che tipo come quando un tempo si usciva il sabato sera e si facevano le macchine, no? Allora quando si mette in grado su quattro posti, vieni tu, vengo io di solito vanno i maggiori esponenti dei maggiori partiti presenti in un Parlamento o meglio di tutte le forze politiche presenti in un Parlamento una cosa che qualcuno ha notato, di solito ovviamente vanno non per forza i deputati e senatori ma gli esponenti dei partiti la delegazione viene formata dagli esponenti del partito e in modo indistinto se deputati o senatori vi è un protocollo che si segue che si parte dai gruppi minori per arrivare poi dai senatori a vita per una questione di rispetto dai gruppi minori per arrivare poi a concludere con il gruppo che ha la maggiore presenza in Parlamento cosa fa il Presidente della Repubblica? si prende un caffè con tutta questa gente o un whisky se poi quando si fa tardi immaginiamo si chiudono a porte chiuse e parlano ogni gruppo esprime la sua posizione e la sua opinione in merito alla crisi politica e anche il suo gradimento verso un eventuale nome che potrebbe essere il nome che il Presidente della Repubblica debba incaricare ovviamente il Presidente della Repubblica cosa fa? raccoglie tutte le informazioni alla fine di questa consultazione a due strade o nomina un Presidente del Consiglio incaricato che appunto non è ancora un Presidente del Consiglio ma è solo una persona che viene chiamata e viene incaricata di formare un nuovo governo oppure se non viene vede che all'interno dell'arco costituzionale non vi è nessun accordo e nessun tipo di maggioranza politica deve dominare, deve chiedere per forza che vi siano le nuove elezioni un tentativo si fa sempre è un po' come dire vabbè c'è una ragazza che mi piace però quella mi ha già detto no vabbè un ultimo tentativo lo faccio ma che vada mi dice di nuovo no e mi metto l'anima in pace quindi per questo spesso succede che ci sta sempre un soggetto che esce dal cilindro spesso una figura istituzionale o un tecnico che il Presidente della Repubblica chiama e dice ti do un mandato che è cosiddetto mandato esplorativo vedi se riesci tu in qualità di soggetto magari un po' super partes a formare una maggioranza in Parlamento questa è un'altra diciamo consuetudine perché non c'è scritto nessuna parte del mandato esplorativo certo non è che ogni volta si può chiamare Indiana Jones per formare un governo però il Presidente della Repubblica a volte utilizza questa strategia il mandato in linea di massima è sempre esplorativo però quando c'è una maggioranza consolidata è una cosa formata si tratta solo di mettersi d'accordo con i nomi quando è una situazione politica amministrativa come quella di adesso è chiara la scelta del Presidente del Consiglio della Repubblica io prendo un uomo che è una figura istituzionale è comunque esponente di un partito che ha la maggior parte dei numeri in Parlamento vediamo se questo uomo riesce a mettere una maggioranza assieme perché forse dalle consultazioni è stato chiaro che una maggioranza consolidata non c'era manco la maggioranza per portare avanti il governo Conte che attualmente è ancora il Presidente del Consiglio è il Presidente del Consiglio dimissionario in quanto ha espresso la volontà di dimettersi cosa avviene tecnicamente? se l'attuale Presidente incaricato, cioè il Presidente della Camera Ficco che poi dovrà lasciare il suo ruolo non verrà a capo di questa situazione e troverà una maggioranza si recherà dal Presidente della Repubblica e dirà io ho la maggioranza, ho il governo a questo punto amministrativamente che cosa succede? il Presidente della Repubblica fa un atto di nomina del Presidente del Consiglio che lo controfirma e nel momento in cui lo controfirma accetta l'incarica da quel momento in poi per un breve periodo ci sono due Presidenti del Consiglio e quale sarà questo breve periodo? c'è un Presidente del Consiglio incaricato e un Presidente del Consiglio dimissionario perché ha accettato la nomina da parte di Fico ci sarà quello di nomina dei singoli ministri e poi ci sarà quello di accettazione delle dimissioni del Presidente del Consiglio perché? questi sono i tre passaggi ovviamente per evitare che vi sia un impasse politico-amministrativo che deve esservi sempre in carica almeno un Presidente del Consiglio certo quindi questi più o meno sono i passaggi fondamentali per quanto riguarda la formazione del governo nel caso in cui invece appunto dice perché perché poi abbiamo spiegato questi passaggi e tutti questi passaggi e se diciamo non riesce a formare il governo il governo Fico che cosa c'è? resta in camera se il mandato esplorativo di Fico non dovesse andare a buon fine resta in carica il governo attuale resta in carica il governo attuale fino a nuove elezioni oppure il Presidente della Repubblica potrebbe anche indire delle nuove consultazioni perché magari nel frattempo vi è stata una nuova situazione politica magari perché infatti si parla vedo dalle dichiarazioni che qualcuno dice facciamo un Conte Terra ancora parlano di Conte Terra c'è un Presidente incaricato e qualcuno fa la battuta dice Fico è stato incaricato di vedere se c'è la maggioranza per un Conte Terra in effetti è una cosa un poco particolare però potrebbe potrebbe pure essere una tattica nel frattempo c'è un dato politico noi facciamo sempre dei giudizi tecnici giuridici c'è un dato politico io invece ho un'espressione sul dato politico la voglio dare in pochi anni i 5 Stelle sono arrivati al governo del Paese do un trend statistico particolare il paradosso è che nel momento più basso del loro gradimento politico diventano governo è paradossale questa cosa in Italia va a finire che poi è sempre la minoranza che governa tutto questo ovviamente è dato da che cosa? da un dato tecnico giuridico c'è bisogno di una legge elettorale che dia stabilità sicuramente quello è fondamentale insomma seguiremo l'evolversi della situazione politica in Italia insomma e andremo a vedere nelle prossime ore se ci sarà un nuovo governo se ci sarà Conte come Presidente del Consiglio ce ne sarà un altro insomma staremo a vedere intanto noi con la rubrica diritto e diritti ci rivediamo puntuali martedì prossimo sempre alla stessa ora sempre qui a Radio Base a martedì prossimo e buona giornata a tutti grazie all'avvocato Alfonso Mauro Grillo grazie a voi che ci avete seguito la rubrica diritto e diritti ritorna martedì prossimo alle ore 12 sempre qui a Radio Base da Rosanna Marrazzo è tutto buona giornata